Buon pomeriggio, ci troviamo a Muravera e siamo alla ricerca di una pizza golosa. Oggi ne vogliamo provare una nuova, se siete curiosi. Allora io, vieni che ti conto. Abbiamo già ordinato. Intanto che aspettiamo vi mostro un po' di questo bel paese di Muravera, famoso per la sua sagra degli agrumi, per il mare bellissimo. Anche tutto a Costa Rai è un pezzo gigantesco di grande spiaggia che partiene a questo comune. Questo è un bel murale che racconta di uno scorcio con un portico, con un porticato, con un pozzo. Guardate che carino invece questo angolino. Un bellissimo archetto. Ogni volta che passo mi si fermo un attimino ad ammirarlo. Alle mie spalle invece è un murale un po' sbiadito dove c'è impresa una frase di Neruda, ode all'arancia. E per concludere questa passeggiatina, guardate cosa vi mostro. Monumento all'arancia. Ma quanto è bella. E questo angolino lo dedico alla mia carissima amica Lorena, grande tiratrice di arance, durante la manifestazione carnevalessa che si svolge ad Ivrea, il bellissimo carnevale storico e poderiese. Da Muravera per ora è tutto. Io torno in pizzeria a gustare la pizza che stanno preparando. E vi faremo sapere se è stata di nuovo sto gradimento oppure no. Un caloroso saluto e a presto. Ciao! Asibirizzano su!